Crea meravigliose slideshow o presentazioni con Shotcut in soli 5 secondi o 5 click. Bentornati ragazzi nel canale Veroeroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi torneremo a parlare di questo meraviglioso programma Shotcut con una funzione secondo me utilissima e secondo me anche poco conosciuta. Allora condividiamo subito il nostro desktop, abbiamo il nostro programma di video editing preferito, Shotcut, link in descrizione per il download. Allora, le presentazioni, le slideshow, cioè queste foto che scorrono con delle transizioni che è una delle penso funzioni più utilizzate per quanto riguarda i programmi di foto e video editing. Andiamo ad aprire queste 5 foto scaricate come al solito da Pixabay, sito dal quale si scaricano foto senza diritti d'autore quindi tranquillamente utilizzabili. Allora, andiamo a selezionare, e adesso ve lo faccio vedere ovviamente ve lo spiego con calma, poi come al solito vi faccio vedere la velocità della creazione di questa presentazione. Andiamo a selezionare tutte in una volta queste 5 foto, quindi io clicco Shift, vado nella prima foto e clicco nell'ultima, vedete che in automatico mi seleziona tutte le foto. avrei potuto fare anche andando qui sul menu playlist, seleziona, select, seleziona tutto. Ok, io ho usato la scorciatoia da tastire che come sapete sono fondamentali in qualsiasi programma di foto o video editing. Allora, quindi andiamo a creare, andiamo a selezionare tutte le nostre foto, riclicchiamo qui su menu playlist e andiamo su aggiungi i selezionati alla presentazione. Ok, quindi abbiamo un tasto diretto che ci permette di configurare la nostra slideshow e ci apre questa schermata di configurazione, vedete, generatore presentazioni, 5 clip. Allora, qui abbiamo tutta una serie di parametri per configurare la nostra presentazione. Durata della clip, quindi la durata della foto, io la voglio fare di 6 secondi. centro di ritaglio è la modalità con il quale se ci sono in foto di risoluzioni diverse, quindi magari che hanno, che hanno magari, non sono magari complete, non sono abbastanza grandi, quindi vi metterà le barre nere di fianco o sopra sotto, questo vi converte, diciamo, le proporzioni, o ve le adatta, oppure può fare ad esempio un blocco sfocatura, qui dovete andare a provare. Blocco sfocatura vuol dire che le parti, le bande nere, lui vi sfuoca praticamente gli ultimi pixel. Vedete, ecco qui l'effetto, vedete, vi fa una sfocatura dello sfondo, quindi è anche un bel effetto, io lascio questo. Effetto zoom. Effetto zoom è questo effetto di, vedete, con il quale va a fare uno zoom alla foto, quindi vi dà l'effetto movimento, questo mi piace e voglio dare un 20 per dare ancora più movimento. Durata della transizione, quindi ovviamente è il passaggio da una foto all'altra, voglio che duri un secondo, no, un secondo e mezzo. Vabbè, poi chiaramente io adesso faccio delle prove così a caso, voi a seconda delle foto che avete di quello che volete fare, andate a fare le modifiche giuste. Tipo di transizione, qui avete tutte le transizioni presenti in Shotcut, di default c'è il Dissolvi, ma voi potete andare ovviamente a selezionare qualsiasi di queste transizioni. Io, vedete, ho anche creato due transizioni con Gimp, ho fatto un video già che vi spiega come fare, ma altri seguiranno. Voglio mettere in questo caso casuale, cioè voglio far scegliere a Shotcut il tipo di transizione. Qui in basso vedete ovviamente l'anteprima di quello che state facendo, in modo tale da avere un'idea di quello che state modificando. Morbidezza della transizione, ovviamente, è la morbidezza del passaggio da una foto all'altra. Voglio fare un 30%, anzi, facciamo un 25%. Molto bene, fatto questo, io ho fatto un po' a caso, ma più o meno ho messo delle regolazioni generiche, clicco su OK e lui in automatico mi mette nella timeline, vedete, mi mette tutta la clip che io ho creato, come se fosse un per il proprio video. Quindi clip 1, transizione, clip 2, quindi foto 2, eccetera. Vedete, queste sono le bande sfocate laterali. Andiamo a vedere, quindi facciamo un tasto destro, seleziona, non selezionare niente e andiamo, in modo tale da togliere ovviamente la selezione alle clip e andiamo a vedere cosa abbiamo generato. Allora, vedete che lui ci crea la prima foto con l'effetto zoom, transizione, in questo caso una transizione a finestra, seconda con la barra laterale, anche in questo caso avete la sfocatura laterale, sempre effetto zoom e così via. Allora, perché ragazzi vi ho detto in 5 secondi, in 5 click? Perché, e adesso ve lo faccio vedere velocemente, se io, se contiamo insieme, vedete, io ho 5 foto, 1, 2, 3, 4, 5. In 5 secondi, in 5 click, noi abbiamo la nostra presentazione, la nostra slideshow già bella e pronta. Chiaramente sarà con le informazioni, con le regolazioni di base, però è già molto molto carina, perché abbiamo la foto, abbiamo l'effetto movimento con lo zoom e abbiamo già tra una foto e l'altra l'effetto di transizione di dissolvenza, quindi tranquillamente già così presentabile. Possiamo, io chiaramente vi consiglio sempre di andare a regolare come voi volete, quindi a vostro piacimento, a seconda di quello che volete fare, quindi andare a regolare nel pannello delle impostazioni che abbiamo visto, delle regolazioni, ma potete tranquillamente anche lasciarla così. Dopo potete, una volta che avete fatto, avete finito il vostro progetto, potete andare a fare un file, esporta video e potete esportare nei formati che volete, mp4, gif o altri, e vi creerà ovviamente il file con la presentazione che potete ad esempio mettere su un televisore o su altri device per farlo vedere chiaramente a tutte le persone che volete. Ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi possa essere stato d'aiuto, che vi abbia fatto conoscere questa funzione particolare di questo meraviglioso programma che è Shotcut e altri video come questo seguiranno, quindi ovviamente iscrivetevi, lasciate un commento, mettete un like e venite a trovarmi sul mio profilo Instagram, vero__ro__academy, datemi come sempre nuove idee per nuovi video. Noi, ragazzi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.